Eccoci qui, buon sabato 4 novembre, ben trovati un minuto dopo le 13, buon pranzo a chi sta mangiando comodamente a casa, magari davanti alla tv, davanti al canale 6-7 del digitale terrestre da lì è possibile ovviamente seguirci, io sono Silvia Notargiacomo, c'è Diego Pette, regia a Milano c'è Masino che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, noi saremo insieme fino alle 17 oggi c'è tanto tanto di cui parlare, quindi state con noi ma si va con la musica, loro sono gli Oasis Stand by me